Anche nelle marche tamponi gratuiti per gli studenti delle elementari Condannato il superstite della strage stradale di Colombarone del 2019 Decoro in centro a Pesero più locali sfitti che fuori regolamento PPQB Regione lanciano un talent per futuri imprenditori Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Ben ritrovati a Rossini News il nostro telegiornale del canale 633 delle digitali terrestre Notiziario che in questo venerdì 28 gennaio apriamo con una notizia arrivata in redazione nel tardo pomeriggio Perché è ufficiale da domani i tamponi per i bambini delle scuole primarie saranno gratuiti in tutte le farmacie Ad annunciarlo la Regione Marche dopo il decreto firmato dal governo Che stende così alla fascia di età 6-11 anni la gratuità del decreto Che era garantita finora per le scuole secondarie di primo e secondo grado La procedura è la stessa adottata per gli studenti di scuole medie e superiori Il medico di medicina generale o il pediatra compila una ricetta di tipo farmaceutico E a seguito della registrazione della ricetta elettronica Rilascia al genitore o invia per mail il promemoria da esibire presso le farmacie convenzionate E vi ricordiamo anche che domattina è previsto l'open day dei vaccini anti-covid all'ex Resto di Pesero Così come ci si può vaccinare senza prenotazione anche domani pomeriggio e domenica pomeriggio all'ex Codma di Fano Vaccini che si ricorda sono riservati solo ai maggiori di 18 anni E intanto cominciano a scendere i contagi nella regione Marche Dopo che oggi si sono registrati 4.899 casi di cui 1.083 nella provincia Per una percentuale di tamponi positivi che è scesa al 37% Crescono invece di 3 unità ai ricoveri nelle Marche che passano da 358 a 361 Ma restano stabili i pazienti in terapia intensiva a quota 57 Sempre alto il numero dei decessi 10 nella giornata di oggi di età compresa fra 60 e 94 anni Ed ora cambiamo argomento e parliamo degli sviluppi processuali Di un fatto di cronaca risalente a due anni e mezzo fa Ricorderete nel giugno del 2019 un gravissimo incidente stradale Avvenuto sulla strada delle Siligate in prossimità di Colombarone In quell'occasione persero la vita tre persone E ieri in sede processuale è arrivata una condanna importante Per l'unico superstito di quella strage stradale Il servizio È stata una delle stragi stradali sul territorio Che ha fatto più discutere negli ultimi anni Era la domenica del 9 giugno 2019 Quando una Mazda X3 lanciata a folle velocità in discesa Andò fuori controllo all'altezza dell'abitato di Colombarone E si schiantò contro una Fiat 600 Che proveniva dalla direzione opposta Un incidente che procurò tre morti Tutti di Pesero I coniugi sessantenni Roberto Carosio e Auriella Bonerba Che rientravano da un pranzo domenicale E la 33enne Silvia Lucarelli Giovane mamma alla guida della Mazda fuori controllo Due anni e mezzo dopo è arrivata ieri Una sentenza di condanna del Tribunale Per l'unico sopravvissuto di quella tragedia Il pesarese Marco Razzietti 33 anni Condannato con processo in rito abbreviato A tre anni e quattro mesi Per omicidio colposo O Razzietti che nell'incidente riportò ferite non gravi Ma alla base dell'impianto accusatorio Il fatto che lo stesso Razzietti Avrebbe tirato il freno a mano Cooperando nella determinazione dell'omicidio Una cooperazione a quella di Silvia Che secondo l'accusa dell'epoca Avrebbe guidato l'auto In stato di alterazione fisica Per imperizia e negligenza Un comportamento letalmente dissennato Tale da far affrontare a 130 all'ora Una curva in una zona con limite Dei 50 km orari All'epoca dei fatti Venne inizialmente accusato O Razzietti di essere alla guida Una tesi poi contestata dalla difesa E di fatto smentita Da telecamere di videosorveglianza Che appurarono che al contrario Alla guida del mezzo Ci fosse Silvia Lucarelli Il tribunale ha disposto anche il pagamento Di una provvisionale di risarcimento Di 100.000 euro Da parte di O Razzietti Alla figlia rimasta orfana della mamma Silvia E di 120.000 euro Ai genitori della stessa Lucarelli In questi giorni ha fatto discutere Il nuovo regolamento Sull'edecoro Nel centro storico di Pesaro Che vi abbiamo presentato martedì E sul quale ieri il sindaco Ricci Ha voluto puntualizzare Alcuni aspetti Andando a sedare Polemiche e critiche Questa mattina Le nostre telecamere Si sono accese in centro Per capire allo stato attuale Quante attività fuori regolamento Esistono E nel futuro imminente Non avrebbero il permesso Invece di aprire Ha fatto discutere Il nuovo regolamento Sul decoro urbano Nel centro storico di Pesaro Presentato martedì scorso Dall'assessore all'innovazione Francesca Frenquelucci Alla presenza del sindaco Matteo Ricci Sindaco e assessore Sul quale sono piovute critiche Per un regolamento Da alcuni Ritenuto discriminatorio Sull'apertura di nuove attività Aperture e regolamento Che è stato chiarito Con un secondo video Di Matteo Ricci Postato proprio nella giornata di ieri Per puntualizzare alcuni concetti Di questo regolamento Di fatto il regolamento Vieta l'apertura di nuove attività Su una certa tipologia Di settore merceologico Attività che però Sono circoscritte Al solo Cardo e Lecumano Vale a dire All'asse del centro Che va da Piazzale Lazzarini Passando per via Branca E via Rossini Così come da Piazzale Matteotti Passando per via San Francesco Il corso 11 settembre Naturalmente compresa Piazza del Popolo Abbiamo dunque fatto un giro In centro storico Quest'oggi Questo venerdì 28 gennaio Per capire Quali di queste attività Che in un futuro imminente Non potranno essere aperti Sono invece attualmente presenti Nelle quattro vie in questione Le attività fuori regolamento Sono ridotte A un numero limitato di casi Poco o nulla Fra via Branca Via Rossini Piazzale Lazzarini Con situazioni Per lo più circoscritte Su corso 11 settembre Dove figurano Un distributore automatico E alcune attività Identificabili Come empori O bazar etnici Senza specificità Di merce Così come ci sono In via San Francesco Dove figura pure E la rivendita Di cibo d'asporto Quale Kebab Più volte Presa ad esempio In questi giorni Ci sono poi nel corso Attività come Lavanderia Self Service O Money Transfer Ma sono oltre L'intersezione con Via Mastro Giorgio Ovvero Oltre l'area di competenza Pertinente Al provvedimento Già perché va ricordato Che il regolamento Sul decoro Non contempla Altre vie Seppur centralissime Come via delle Gallegherie Via Passero Via Curiel Per fare alcuni esempi Dove non ci saranno Limitazioni A nuove aperture Tra l'altro Su Cardo e Decumano Non si vede ombra Di Comprooro Sale gioco scommesse Internet point O sexy shop Ci sono attività Di abbigliamento E telefonia A gestione straniera Forse fuorvianti All'occhio Di chi non ha letto Il regolamento Ma perfettamente Lecite inserite Nel caso Dei codici Dei codici A teco Al quale Il regolamento Si attiene Ad estare Più stupore Nel nostro giro Qui di quest'oggi In centro È invece La quantità Superiore Rispetto alle attività Presenti Che vi abbiamo citato Di locali sfitti Di locali Con il cartello Affittasi Vendesi Questi sono i locali Che potrebbero essere Soggetti a nuove aperture Quelle sulle quali Appunto L'amministrazione Mette delle limitazioni Ma al contempo Promuove Delle agevolazioni Per l'apertura Di specifiche Nuove attività Con affitti Calmirati Anche in accordo Con le agenzie immobiliari Come spiegato Anche dall'assessore All'innovazione Francesca Franquellucci Durante la presentazione Di martedì scorso Per le nuove imprese Che vogliono aprire Abbiamo Pensato A delle agevolazioni Dei canoni Calmirati Adesso Faremo Tutti Una volta Votato in consiglio comunale Faremo gli incontri Con le varie agenzie immobiliari Per aiutare Nuove imprese A entrare nel mercato E dare supporto Soprattutto All'imprenditoria giovanile E all'imprenditoria femminile E ultimamente Ci siamo occupati Spesso Di finanziamenti Per la riqualificazione Dei palazzi storici Nel centro Di Pesaro Ora invece Arriva un importante Fondo ministeriale Anche per il comune Di Gradara Che ottiene Un contributo Di 182 mila euro Per la riqualificazione Di palazzo Rubini Vesin Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Con il sindaco Filippo Gasperi E con Silvano Straccini Presidente di Gradara Innova Il comune di Gradara Il comune di Gradara È il risultato Sesto A giudicatario In graduatoria Del fondo cultura Il bando Del ministero Dei beni culturali Sul cala nazionale Che supporta Diciamo La valorizzazione La riqualificazione Di palazzi Monumenti storici Il focus Del nostro progetto Ha interessato Il palazzo Rubini Vesin Che è l'ex sede comunale Attuale sede espositiva E sta continuando Insomma Da diversi anni A essere La principale sede espositiva Di Gradara Un palazzo Del settecento Che chiaramente Necessita Di importanti Lavori Di riqualificazione Anche per poter Ospitare mostre E opere d'arte Sempre più preziose Che necessitano Di un certo tipo Di struttura Sia tecnologica Che di accoglienza fisica E quindi Questo risultato Straordinario Per un comune piccolo Come Gradara Sotto i 5.000 abitanti Sesti In graduatoria Nazionale Ci consenterà Con un finanziamento Di 182.000 euro A fondo perduto Supportato da una parte Di confinanziamento Del comune di Gradara Di portare Il nostro palazzo Rubini Vesin Finalmente A un livello Sufficiente Per garantire Esposizioni Di altissimo livello Che accompagneranno La normale Ricca stagione Di eventi E culturale Di Gradara Abbiamo effettivamente Delineato un progetto Innovativo Nel settore Dell'innovazione Culturale Applicata A un contenitore In questo caso Specifico Il palazzo Rubini Vesin È stato immaginato Come uno spazio Efficientato Dal punto di vista Tecnico E tecnologico Quindi abbiamo previsto Dei miglioramenti Dal punto di vista Dell'impiantistica Elettrica E climatica E un efficientamento Dal punto di vista Espositivo L'abbiamo chiamato Digital Art Game Uno spazio In cui è possibile Organizzare mostre Anche dal punto di vista Digitale Noi ci siamo immaginati Due elementi L'elemento digitale Come elemento innovativo Dell'arte E il game L'attività di Gamification Dell'arte Applicata proprio All'interno Di questo contenitore Che è Palazzo Rubini Vesin Quindi probabilmente L'innovazione E le parole Che abbiamo utilizzato Nel descrivere Il nostro progetto Che sarà poi Oggetto Del vero progetto Che andremo a realizzare Probabilmente Hanno convinto Sia noi In prima battuta A scrivere Questo progetto Che la commissione Che lo ha giudicato Come trasformare Un'idea imprenditoriale In una start-up Ora I giovani Fra 18 e 34 anni Avranno Un'ottima risposta A questa domanda Attraverso L'iniziativa Digitalens Finanziata Dalla regione Marche Sostenuta Dalle università Marchigiane E coordinata Da BP Cube Incubatore Di imprese di Pesero Luogo in cui Oggi È stato illustrato Questo talent Per aspiranti Imprenditori Oggi È una giornata importante Perché anche Insieme alla regione Grazie al bando Net4U Che per noi Si trasforma Nel nuovo brand Digital Talent Quindi Formare E qualificare Giovani Della regione Marche In una fase D'età Di 18 e 34 Che dovranno Dopo questo corso E' chiaramente pagato Interamente Della regione Marche Perché è un fondo perduto Dovranno in qualche modo Accrescere il loro bagaglio Di esperienze E noi lo facciamo E lo faremo Legandole al digitale Tutto quello che è connesso Alla trasformazione digitale Che come ben sapete Non devo dirlo io Ma oggi Le aziende vivono Di digitale C'è una trasformazione in atto Da saper cogliere E noi In questi spazi Insieme alla regione E anche in 18 mesi Grazie alla possibilità In questo bando Di portarlo In tutta la regione Quindi attraverso Le aziende Attraverso i territori Far conoscere Questi giovani Che saranno tanti Perché mireremo A oltre 300 giovani Nella fase informativa E formativa Piano piano Con una selezione A modello di talent Ecco perché Il digital talent Ecco perché Vorremmo che i giovani Di volta in volta Si aprissero sempre di più Portando anche loro Quello che sono Le loro capacità Capacità Cosa vorremmo Vorremmo insieme alla regione In questi 18 mesi Avere dei nuovi talenti Pronti per la sfida digitale Che oggi Vi sta aspettando Solitamente Si cerca di Avviare Le persone al lavoro I giovani al lavoro Io credo Che sia molto importante Anche orientare E avviare I nostri giovani All'imprenditoria Noi i mesi scorsi Abbiamo messo in campo Diversi bandi Per incoraggiare i giovani Ad aprire nuove partite IVA Abbiamo visto che c'è stato Un grosso successo Su questo E quindi vuol dire Che c'è una predisposizione Nella nostra società Ad aprire imprese Ad nuove attività E quant'altro Da qui In conseguenza Abbiamo pensato Anche a come poter Supportare i giovani In questo percorso Ma noi abbiamo proprio Voluto mettere in campo Un'attività E sostenere anche Finanziariamente Gli incubatori di impresa In questo caso Residenti che hanno sede Nella nostra regione Abbiamo messo a bando Con una cifra anche consistente 1.800.000 euro Questo sostegno Ci sono stati Quattro assegnatari Tra cui qui Dove oggi Siamo ospiti E giustamente Da qui Noi partiamo E questi quattro Incubatori di impresa Insieme alle università Delle Marche Insieme ad alcune imprese E alcuni enti accreditati Antiformativi Delle Marche Intreprenderanno Questo percorso Proprio di Supporto Aiuto Orientamento Ai nostri giovani Per aprire nuove imprenditorie Purtroppo abbiamo un fenomeno Molto presente Nella nostra regione Nella nostra provincia Che è quello Della fuga dei giovani Verso altre regioni O addirittura All'estero E si tratta in genere Dei giovani migliori Per cui è importante Cercare di simularli A rimanere nel nostro territorio E certamente In un mondo In grande cambiamento Come quello attuale Avere delle idee Imprenditoriali Che possano dar vita Appunto Delle iniziative Possibilmente di successo È certamente Una cosa Da fare Da proporre Da simulare E da promuovere Quindi in questo La collaborazione Anche con questi progetti Da parte nostra È fondamentale Ci rivolgiamo A una platea Di giovani Fra i 18 e i 34 anni Con formazione superiore E o universitaria E che abbiano Il requisito Di essere disoccupati Al momento Si partirà con un recruitment Molto ampio Abbiamo numeri ambiziosi Parliamo di centinaia Di partecipanti E ci auguriamo Che questi obiettivi Siano raggiunti Si partirà con una giornata Che prevediamo La prima Ma essere a fine febbraio Inizio marzo In cui faremo Una carrellata Degli argomenti principali Che contraddistinguono La digital transformation Quindi si parlerà Di artificial intelligence Di augmented reality Di tutti quegli argomenti Che sono Diciamo Gli americani dicono Top of mind Dell'evoluzione tecnologica Dopodiché Attraverso varie selezioni Passeremo Dall'informazione Alla formazione Formazione Che avverrà Con l'ausilio Di W Academy Temi che è molto forte Su questo fronte E comincerà Ad approfondire i vari temi Per dare proprio Quello spessore All'iniziativa Che permetterà Di formare Delle figure professionali Che o scaturiranno Nella formazione Di start up O in ogni caso Riqualificheranno Il profilo professionale Dei partecipanti Fino ad arrivare Alla fine Del programma Con la selezione Delle cinque migliori idee Che ovviamente Saranno premiate Con iniziative Ulteriormente formative Prevediamo magari Degli stage all'estero Eccetera Eccetera Per poi concludere Questa prima fase Che ricomincerà Con la ripresa Post estiva E contro il caro Bollette Il comune di Vallefoglia Annunciato oggi Che sosterà Con un fondo Di 115 mila euro 255 famiglie Con difficoltà Del territorio Che hanno presentato Domanda di contributo Contributi Che varieranno Fra i 300 E i 500 euro Famiglia Per quello che riguarda Le utenze Di luce E di gas E intanto Proseguono Gli interventi Di riqualificazione Della provincia Di Pesaro Urbino In merito Agli istituti scolastici Ora infatti Ci sono conclusi I lavori Per il rifacimento Della pavimentazione Delle due palestre Del liceo scientifico E musicale Marconi di Pesaro Per un importo Di circa 40 mila euro E nonostante Le limitazioni Da pandemia Il Natale Che non ti aspetti Che da anni Unisce le iniziative Delle festività Organizzate Dalle proloco Della provincia Si è chiuso Con numeri confortanti Come illustrato Questa mattina Nel report Di chiusura Dell'evento È stato Un successo Straordinario Nonostante Le difficoltà E io credo Che soprattutto Dobbiamo Un grande Un forte ringraziamento A tutti i presidenti Delle proloco A tutti i consiglieri A tutti i volontari A tutte le famiglie Della nostra provincia Per il prezioso lavoro Che hanno svolto Perché oggi Se possiamo parlare Di numeri Se possiamo parlare Di dati È grazie Al grande lavoro Che le proloco Hanno svolto Sul nostro territorio Importante Il ruolo Della regione Marche Su tutto questo Grande progetto E che vorrei ringraziare Il presidente Francesco Acquaroli E l'assessore Francesco Baldelli In particolar modo Che ha seguito Fin dai primi momenti La nascita Di questo Grande progetto E l'assessore Aguzzi Tutta la giunta E tutto il consiglio regionale Stiamo lavorando Per programmare Un 2022 Importante A febbraio Incontreremo Nella nostra provincia I dirigenti Dell'azienda di soggiorno Di Bolzano Dati e numeri Da capogiro Che veramente Nemmeno io pensavo Che potessimo arrivare A questo grande risultato Ma grazie allo sforzo E all'impegno di tutti Siamo riusciti a portare a casa Un grande risultato Ma soprattutto Il grande risultato Non è solo per noi Ma è per il territorio Per l'intero Tessuto economico Della nostra provincia E della nostra regione Questi anni Con grande dedizione Hanno saputo costruire Un evento Di qualità In grado di Attirare Migliaia di visitatori Da tutta Italia Nella nostra regione Nei nostri borghi Il merito va Ai volontari Del Proloco Che in ogni angolo Del nostro territorio Hanno saputo Ricreare L'atmosfera Del Natale Due sono Gli elementi Per creare Un'industria Del turismo In grado Di poter Compertere Con le regioni Che si stanno Specializzando Per attrarre Visitatori Dal resto D'Italia E dall'Europa La qualità E la capacità Di aggregazione Questo Lo Proloco L'hanno saputo Fare E anche in questa direzione Sta andando L'iniziativa Dell'assessorato Alle infrastrutture Che insieme A fondazione FS Trenitalia Le Proloco Delle Marche Sta realizzando Un progetto Quello del Christmas Rail Che nei prossimi anni Porterà Babbo Natale A visitare Sostanzialmente Quindi la magia Del Natale L'atmosfera Del Natale A visitare I nostri borghi Dal sud Delle Marche Da Ascoli Piceno Fino Alla provincia Di Pesaro Orbino Su questo treno Dedicato Tutto Al Natale E a quello Che in questa provincia Viene definito Come il Natale Che non ti aspetti Grazie all'iniziativa Delle Proloco Domenica c'è un grande Appuntamento sportivo Che ha la sua prima edizione Parliamo Della Pesaro Marathon Una maratona Che si terrà A Pesaro E che vedrà Circa 500 podisti Al via Della corsa Organizzata Dall'associazione Orta 10 in 10 Che punta A creare Un appuntamento Fisso Nel calendario Delle maratone Proprio su Pesaro Dunque Un'edizione zero Che partirà Alle 9 di mattina Da Baia Flaminia Passando dalle colline Del San Bartolo Con un percorso Che poi si diramerà Sull'intero lungomare Pesarese Fino al confine Del territorio Di Fano Per poi Fare ritorno Dopo 42 km Alla base Dell'arrivo In Baia Flaminia In gara In gara ci saranno Anche maratoneti Di livello Internazionale Come Luca Antonelli Stefano Velatta Alberico Di Cecco Giorgio Calcaterra Così come fra le donne Monica Correale E Federica Moroni Oltre alla maratona Sono tanti Partecipanti Anche alla mezza Maratona Prevista nel programma Sarà un appuntamento Che Rossini TV Vi mostrerà Il 4 febbraio In uno speciale Dedicato Oltre che Naturalmente Lunedì Nel nostro telegiornale Si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Ora Vi diamo qualche appuntamento A cominciare Da questa sera E da chi Viene subito Dopo di noi Per quello che riguarda La nostra prima edizione Del TG Alle 20 Infatti c'è il Valle Foglia Il Pian del Bruscolo Magazine A condurlo questa sera Sarà Edoardo Orazzi Che vedete In grafica Valle Foglia Magazine Come ogni venerdì Alle 20 Con prima replica Alle 23 e 15 E poi la nostra Prima serata Alle 21 e 20 Un'altra puntata Dell'edizione 2021 Di Generazione Silver Format realizzato Assieme all'Associazione 50 e più di Confcommercio Dedicato alle esigenze Della fascia anagrafica Sopra i 50 anni E poi l'informazione Su Rossini TV Torna domattina Puntuale alle 7 e 20 Con la rassegna stampa Dei quotidiani locali Del territorio Buongiorno Rossini A condurla Sarà il nostro Antonio Astuti E sabato Non perdetevi WePesaro TV Ospite di questa puntata Sarà Francesca Franquellucci Assessore all'innovazione WePesaro TV È un format Che vi porta Alla conoscenza Di argomenti specifici Seguiti dall'amministrazione Comunale di Pesaro Appuntamento dunque Con l'assessore Franquellucci Domani Sabato 29 gennaio Alle 13 e 30 E poi domenica Alle 11 e un quarto Vi trasmetteremo La Santa Messa Dalla parrocchia Santa Maria Assunta Di Montecchio In questo nuovo Appuntamento Domenicale Con le Sante Messe Che vi proponiamo Da diverse chiese Del nostro territorio Domenica È anche la serata Di Palcoscenico Market Questo format Di documentari Realizzati Dalla Fondazione Cassa di Risparmio Di Pesaro Che ci portano Alla scoperta Di meraviglie Spesso poco conosciute Del nostro territorio Abbinati A performance Artistiche In questa puntata Palcoscenico Market Si svolgerà All'ex Lanificio Carotti Di Fermignano Appuntamento dunque Domenica Alle 21 Tanti appuntamenti Dunque Ora c'è quello Con le previsioni Del tempo Che conclude Il nostro Tg A me Non resta altro Che salutarvi E augurarvi Un buon weekend In compagnia Dei programmi Di Rossini TV